Sì, sì, sono d'accordo. Il calcio brasiliano è un calcio che la caratteristica più forte è l'imprevisibilità. C'è una caratteristica che è l'improvvisazione, vuol dire che l'improvvisazione è da decidere da fare al momento, con le condizioni di momento. Una caratteristica importante è la cultura brasiliana. Viene degli indiani. Avevano che decidere di fare le cose per survivere, si dice survivere, survivere al momento con le cose che avevano al momento. Questa è l'improvvisazione, si provvede al momento, in momento. Questa è l'origine di questa caratteristica brasiliana. In tutta la nostra cultura c'è un po' di improvvisazione, anche in calcio e anche in architettura. Claro, anche in architettura. Proprio Oscar Niemeyer dice che vuole fare le sorprese, le sorprese alle persone, le sorprese ai visitanti delle sue opere. Quando entra, quando vede e quando entra a fare le sorprese, le sorprese successive. Questa è un'intenzione e una caratteristica. E anche penso che il calcio brasiliano è normalmente sorprendente per questo. I giocatori fanno improvvisazione. Immagino che la palla può essere forse in giro, come questa Giabulani, giro subito. E con questi giri subito i giocatori dovranno fare improvvisazione. Improvvisazione per la dinamica propria della palla. Questa improvvisazione è una giocata normalmente sorprendente per gli altri. Sorprendente. Nessuna. Prima, per me, come un metodo di lavoro, per me prima viene un'analisi delle condizioni specifiche per il progetto. Il progetto. Condizioni specifiche. Forse condizioni di programma, condizioni di luogo, condizioni climatiche, di paesaggio, contesto urbano, eccetera. Analisi. L'analisi delle condizioni mi porta a definire cosa che sarebbe una strategia per l'opera. di opere. Strategia di opere. Questa strategia mi guida in decisioni e le decisioni del progetto. fra decisioni, fra costruzione, funzione e come conseguenza di questo processo. la forma è forse una, forse altra, come conseguenza. Sempre come conseguenza di un processo di analisi fra le condizioni, le funzioni e come conseguenza la forma che normalmente per me è una forma nuova. perché le condizioni cambiano. Le funzioni e le condizioni cambiano sempre. Lo suo posto ha detto che l'architetto in quanto tecnico, normalmente, arriva a un momento dove le possibilità tecniche sono uguali. due possibilità tecniche, due vie. Una via, un'altra via, tecnicamente, equivalente. Chi decide è l'artista. Mi piacciono tutti questi materiali, è chiaro. Il cemento armato è fantastico. È un materiale plastico, con il quale si fa quel che forma. Si può fare le forme, le strutture, le luci, le gran luci, le strutture curve, forse. È un materiale plastico. Anche l'acciaio è un materiale interessantissimo perché si permette, strutture leggere, visualmente leggere, un processo di produzione anche industriale, di prima, di affari dopo, a montaggio in cantiere, perfetto. E anche il legno. Il legno ha una caratteristica interessante perché il peso proprio è il meglio materiale per fare il lavoro di flesso compressione. È meglio che l'acciaio, perché l'acciaio, per lo stesso lavoro, è più pesante. Il legno per me ha un interesse speciale perché è per quelle caratteristiche ambientali. È un materiale rinnovabile, rinnovabile si dice, è rinnovabile. E altri. Sono materiali minerali che fanno uso di petrolio anche, eccetera, eccetera. Quando un albero cresce, deve absorvere il carbono. Il carbono purifica l'atmosfera, absorve il carbono. Se un albero, una fioresta naturale, morre, libera il carbono absurdo nella sua vita. Il legno ha questa proprietà importantissima di essere un materiale ambientalmente più bocretto oggi, dei problemi ambientali della terra. E per me, normalmente, le costruzioni hanno le tre materiali. Sono costruzioni composte, non sono uniche. In questo senso, di fare dei artefatti. Ho proposto un tema un po' aperto, di fare le trasposizioni, trasposizioni mobili, trasposizioni difibili a Venezia. E ci sono, è un tema aperto, ci sono le idee degli studenti mettendo dei progetti sorprendenti. Sì, guardi. Grazie.